la storia del mio matrimonio, almeno la prima parte. Zeno sta raccontando, vi ricordo, nel suo diario richiesto dal dottoresse di ricostruire i momenti che lui ritiene più significativi della sua vita e in particolare di raccontare la sua coscienza. E allora dopo la morte del padre esce significativamente l'idea di sposarsi. Da cosa nasce l'idea di sposarsi? Nasce da un misto di sentimenti e di convenzioni sociali. Sposarsi significa mettere la testa a posto, lo sappiamo tutti. Questa è una delle frasi che si usa ed è quello che la società insegna, almeno insegnava forse un tempo più di oggi, cioè che quando uno diventa adulto e vuole sistemare la propria vita, si dice anche sistemarsi, vuole assumersi delle responsabilità, tra cui la più importante è la responsabilità di una famiglia, avere un rapporto stabile, vivere nella monogamia, non essere più, come dire, ondivago nella propria volontà, allora si deve sposare. Ed è un po' quello che passa anche per la testa di Zeno, di Zeno, scusatemi, appena gli è morto il padre. Però è significativo che all'inizio del capitolo quinto, la storia del mio matrimonio, il passaggio, la decisione di trovare una moglie, e sembra quasi una moglie qualsiasi, si è determinata ufficialmente dal fatto che voleva dare una svolta alla propria vita, guarire la malattia della propria volontà. Questo è quello che ci fa capire Zeno nel suo diario. Ma in realtà il racconto che precede la scelta di questa moglie è il racconto dell'incontro con un uomo, che è il padre della sua futura moglie, il signor Malfenti, che subito capiamo essere una figura che sostituisce il ruolo che il padre aveva avuto. E non a caso, nel momento in cui lui dovrà scegliere tra le quattro figlie del signor Malfenti, che va a trovare, pur non conoscendole, con l'intento di scegliere fra loro la sua futura moglie, la sua scelta cadrà sulla ragazza più bella di questa famiglia. Ma non perché è più bella, come lui stesso ammette, ma perché è quella che più somiglia, almeno all'apparenza, nel carattere e nei modi, al padre, al signor Malfenti. Perché il padre, il signor Malfenti, è in qualche modo una figura che può ricordare la figura del padre appena morto? Perché, come dice Svevo, il signor Malfenti era totalmente opposto a me e per quello io lo ammiravo. Il signor Malfenti appare da un lato come un uomo molto pratico, che non si perde in grandi riflessioni, che agisce con poche regole, tutte improntate a un certo cinismo negli affari e a un certo utilitarismo. Un uomo che sa fiutare gli affari, prende le decisioni, le fa, non si fa scrupoli, non riflette troppo sulle cose. E non sono rare le occasioni in cui il futuro suocero e poi suocero di Zeno sottolineerà come l'incapacità di quest'uomo, che è Zeno Cosini, sia proprio il suo eccesso di riflessività, il suo non guardare mai i lati pratici della vita, ma soltanto gli aspetti teorici e quindi intellettuali, diremmo noi, letterari, libreschi. Si comincia ad lineare anche un dissidio tra la figura del letterato e del pensatore, che proprio perché pensa e pensa tanto non agisce, ma si sofferma su tutti gli aspetti, le implicazioni, le conseguenze anche contraddittorie delle sue possibili azioni, e l'uomo invece di azione, che agisce apparentemente guidato dalla sua volontà. In realtà, in base a regole e convenzioni sociali, che però semplificano decisamente la vita, perché non ti permettono di fermarti a pensare troppo, né ai tuoi errori, né ai tuoi dubbi. Ma come comincia questo primo capitolo, questo quinto capitolo della coscienza di Zeno? Comincia con un riferimento stranissimo a Napoleone, Napoleone I. Nella mente di un giovine di famiglia, di famiglia borghese, il concetto di vita umana si associa a quello della carriera, e nella prima gioventù la carriera è quella di Napoleone I. Senza che perciò si sogni di diventare imperatore, perché si può somigliare a Napoleone, restando molto, ma molto più in basso. La vita più intensa è raccontata in sintesi dal suono più rudimentale, quello dell'onda del mare, che da che si forma, muta ad ogni istante finché non muore. Mi aspettavo perciò anch'io di divenire e di sfarmi come Napoleone e l'onda. Ma aggiunge subito dopo che in realtà la sua vita fino a quel momento aveva dato soltanto unica nota, un po' alta, anche gradevole. Potremmo dire è la nota della leggerezza e dell'insicurezza, del cambiare continuamente con ironia e con leggerezza le proprie decisioni. Ci ha raccontato nel capitolo dedicato al fumo che lui è passato dalla facoltà di giuristudenza dalla facoltà di chimica a quella di giuristudenza e poi nuovamente a quella di chimica, che tutti i suoi propositi sono stati una continua gratificazione quando decideva finalmente di fare qualcosa. È un continuo ripensamento ogni volta che tornava indietro sui suoi passi, trovando mille motivi. è che in realtà la sua condizione, quella con cui appare gli altri, è proprio questo suo tono estremamente leggero, spensierato, diremmo noi oggi con un'espressione da Peter Pan, uno che vola sulle cose senza mai soffermarsi su niente, che però voleva cambiare. Perché questa è la sua malattia, una volontà che non si ferma mai su una cosa ma che continuamente svia. La mia vita non sapeva fornire che una nota sola, senza alcuna variazione, abbastanza alta e che taluni mi invidiavano, ma orribilmente tediosa. E poi continua. Può perciò essere che l'idea di sposarmi mi sia venuta per la stanchezza di emettere e sentire quell'unica nota. Chi non l'ha ancora sperimentato crede che il matrimonio sia più importante di quanto non sia. La compagna che si sceglie rinnoverà, peggiorando o migliorando la propria razza nei figli. Ma madre natura, che questo vuole e che per via diretta non saprebbe dirigerci, perché in allora ai figli non pensiamo affatto, ci dà a credere che dalla moglie risulterà anche un rinnovamento nostro. Ciò che è un'illusione curiosa, non autorizzata da alcun testo. Infatti si vive poi uno accanto all'altro, immutati, salvo che per una nuova antipatia, per chi è tanto dissimile da noi, e per un'invidia, per chi a noi è superiore. E qui vediamo come la riflessione di un uomo anziano che sta scrivendo le proprie storie, le proprie memorie, si sovrappone e condiziona il ricordo di quell'episodio che invece appartiene alla sua giovinezza. Perché una riflessione del genere la può fare soltanto un uomo che appunto il matrimonio l'ha conosciuto e come dirà lui sono anche felicemente sposato da oltre vent'anni. A un certo punto lui dice che aveva un desiderio di novità e questo desiderio di novità gli venne dall'incontro con un uomo in un bar, in un locale, che si chiamava Giovanni Malfenti. Lui si presenta immediatamente, Zeno, come un uomo colto e lo dice in una maniera strana perché ero passato da ben due diverse università, non perché mi fossi laureato due volte, ma perché l'avevo frequentata e senza fare esami tutti e due. Lui invece era esattamente il contrario, un grande negoziante ignorante ed attivo. Ignoranza e quindi la cultura vista anche come una forma sublime di malattia che è consapevolezza, almeno in questo momento, ma che anche ti porta a dubitare di più. E invece l'attività, l'essere pratico, come quasi una necessità dell'uomo ignorante, ma dalla sua ignoranza gli risultava forza e serenità ed io mi incantavo a guardarlo, invidiandolo. Questo Malfenti è un uomo di 50 anni che ha quattro figlie e le ha chiamate tutte quante con la stessa iniziale e il motivo per cui le ha chiamate con la stessa iniziale ci dice anche molto della mentalità di quest'uomo. perché così gli oggetti che passano di figlia in figlia che hanno tutti la stessa iniziale non devono essere modificati, possono essere riutilizzati passando dalla figlia più grande a quella più piccola. Le poche idee che gli si muovevano nella grossa testa e qui c'è il contrasto, una grande testa con poche idee erano svolte da lui con tanta chiarezza, sviscerate con tale assiduità, cioè coerenti sempre, applicate evolvendole ai tanti nuovi affari di ogni giorno da divenire sue parti, sue membra, sue carattere. Di tali idee io ero ben povero e mi attaccai a lui per arricchire. Zeno sta cercando di diventare qualcuno, qualcuno che però è riconosciuto all'interno di una società che ti colloca in dei ruoli. lui è uno che pensa, si perde nei pensieri e quindi non agisce. E quando trova quindi un modello in quest'uomo che però pian piano sta diventando anche un modello simile a quello del padre, il contraltare, la contrapposizione, lo invidia perché gli invidia che cosa? Il fatto che si sa muovere, che si sa comportare, che è un uomo dotato di poche idee, neanche profonde, ma che tutto sommato gli permettono di agire e di avere anche successo nella vita perché è un buon negoziante. La frase che ci rivela che quest'uomo sta diventando per lui un surrogato del padre, un modello paterno e contemporaneamente permetterà anche a quest'uomo di insultarlo, possiamo dire, come fa il padre, ma lo accetterà dopo l'esperienza della morte con una sorta di bonomia, di divertimento, è questa. Egli si accorse presto della mia ammirazione e vi corrispose con un'amicizia che subito mi parve, guardate il verbo, mi sembrò, io la vissi così, come paterna. cosa aveva in testa? Quali erano le idee fondamentali del signor Malfenti? Tre comandamenti che egli riteneva bastassero a far prosperare qualunque ditta. Uno, non occorre saper lavorare, ma chi non sa far lavorare gli altri perisce. Prima idea proprio tranquilla, se sfrutti il lavoro degli altri vai bene. Due, non c'è che un solo grande rimorso, quello di non aver saputo fare il proprio interesse, uomo d'affari. Tre, in affari la teoria è utilissima, ma è adoperabile solo quando l'affare è stato liquidato. Si fanno teorie dopo, non prima. e aggiunge però Svevo che questi teoremi li sa a mente perché non sono originali, non sono soltanto del signor Malfenti, evidentemente erano i teoremi che chiunque affrontasse il commercio in qualche maniera assorbiva da quella categoria, ma aggiunge anche a me non giovarono, mai. Seguono una serie di episodi in cui il rapporto con questa figura più grande, paterna, è un rapporto in cui lui ama anche lasciarsi deridere perché spesso il signor Malfenti gli rimprovera di essere proprio un incapace negli affari, uno che non sa vedere le cose reali perché quando si parla per esempio di un affare lui non pensa alla sua utilità ma pensa alle teorie economiche che ha letto sui libri e quindi perde come dire l'intento, l'intenzione di approfittare di un'informazione e questo per un uomo d'affari è un disastro. A un certo punto dice anche Zeno che gli capitò però di fregarlo una volta. Avevano saputo che un certo tipo di azioni sarebbero scese e il signor Malfenti gli disse io le vendo vendile anche tu. A questo punto Zeno che è un tipo molto distratto prende il foglietto in cui c'è scritto questa azione da fare la mette in tasca e poi dice ma perché la tasca normalmente nella vita uno non la guarda perché sta lì e non ti capita sotto gli occhi mi dimenticai per settimane questo foglietto dopo aver passeggiato se non che avevo avuto intenzione di dire al mio amministratore di vendere queste azioni e non lo feci. Un giorno lo incontrai per caso e mi disse lo sai che le azioni di quella società che vende zucchero sono diventate otto volte più ricche rispetto a tre settimane fa e io dissi benissimo allora vendiamole andai tutto contento da mio suocero il quale mi disse prima ancora che arrivai ammannaggia che ho venduto quelle azioni e mi spiace pure di averti dato questo consiglio e allora io gli dissi mentendo che non l'avevo venduta perché avevo avuto un'altra informazione e mi ero dimenticato di dirglielo ma poi non l'avevo venduta e lui rispose hai fatto male a dirmelo ma non perché tu abbia sbagliato ma perché non si deve mai rivelare i propri trucchi bisogna apparire furbi con gli altri perché così gli altri verranno da te a darti delle informazioni che tu non sai e non ingenui mai ingenui però quando puoi nascondere un trucco devi farlo a quel punto Zeno gli confessa che in realtà è stata la sua dabbenaggine e il suo ce lo risolve dicendo beh dopo tutto sai di che si tratta di un risarcimento tu sei talmente stupido negli affari che una volta tanto la fortuna ha voluto risarcirti per questo questo è il rapporto che si crea con quest'uomo e ci dice anche Zeno che le ultime parole sul letto di morte di quest'uomo non saranno parole proprio piacevoli perché lui afferma per esempio che dopo il matrimonio continuò assiduamente a darmi delle lezioni le condispesse con urla e insolenze che io accettavo convinto di meritarle nella tomba di mio suosero io piansi e piansi molto a onta che l'ultimo addio che mi diede non sia stato troppo affettuoso e aggiunge e vedete come ricorda un poco il meccanismo del padre alla sua tomba come a tutte quelle su cui piansi il mio dolore fu dedicato anche a quella parte di me stesso che vi era sepolta quando muore qualche d'uno noi dobbiamo in qualche maniera cambiare far morire una parte di noi perché quell'esistenza quella contraddizione che sono gli altri ci consente e ci permette di essere quello che siamo quando non ci sono più siamo costretti a rimodellarci e questo è un senso di perdita che non è soltanto la perdita della persona ma anche la perdita di una parte di noi nella visione psicologica e psicoanalitica quale diminuzione per me venire privato di quel mio secondo padre ordinario ignorante feroce lottatore che però dava risalto alla mia debolezza la mia cultura la mia timidezza non l'avessi scoperto se non avessi studiato qui Giovanni oggi mi rendo conto che mi serviva per questo a un certo punto dopo che ha sentito parlare delle quattro figlie Ada Augusta Augusta Alberta e Anna tutte chiamate con la A Zeno Cosini approfittando di un pretesto un amico di cui non ricordava neanche il nome che però aveva frequentato quella casa Zeno riesce ad arrivare a presentarsi a casa dei signori malfenti diciamo che qui comincia un racconto veramente comico perché quest'uomo si presenta e non è solo un inetto sembra un deficiente un completo deficiente è andato lì con l'intento di conoscere queste figlie di scegliere fra le quattro figlie che il signor Malfenti ha detto sono tutte bellissime la sua futura moglie animato da quel desiderio di cambiare la nota alta e unica della sua vita quando arriva subito la scelta si deve ridurre a meno perché la prima persona che gli appare è Augusta e Augusta gli appare subito una donna non piacevole non bella ha un particolare agli occhi estrabica ha questi capelli biondi un po' ricci ma non particolarmente belli e come entra in questa casa lui dice ma speriamo che le altre non siano così dopodiché arriva anche la seconda figlia che è la più piccola Anna che ha otto anni e quella va esclusa automaticamente e poi conosce invece le altre due che sono molto più carine in particolare c'è Alberta che ha 17 anni sta finendo il liceo e c'è Ada Ada è proprio bella Ada è molto bella ma quello che colpisce vi ho detto non è tanto la bellezza di questa donna o almeno secondo la coscienza di Zeno Cosini non è la bellezza di questa donna nella sua analisi quello che lo colpisce ricostruendo da quanti anni è che lei era l'unica che appariva nei lineamenti e nella serietà e nel portamento una donna seria nel senso borghese del termine pratica come il padre quella prima visita io la ricordo come se l'avessi fatta ieri vedete come i ricordi qui c'è Proust sotto era un pomeriggio fosco e freddo d'autunno e ricordo persino il sollievo che mi derivò da liberarmi del soprabito nel tepore di quella casa stavo proprio per arrivare in porto l'idea di arrivare lì mi sto per sposare ancora adesso sto ammirando tanta cecità che allora mi pareva chiaroveggenza correvo dietro alla salute alla legittimità per giunta lui nota anche un'altra cosa ed è significativo tutte le donne cominciano con la lettera A il suo nome comincia con la lettera Z e gli sembra quasi che ci sia una simmetrica compensazione ecco che delle quattro franciule della stessa iniziale una ne moriva appena incontrato Augusta che gli ha dato la mano in quanto mi riguardava come avevano fatta a dirla bella la prima cosa che lei si osservava era lo strabismo tanto forte che ripensando a lei dopo di non averla vista ripensando a lei dopo di non averla vista per qualche tempo la personificava tutto cioè la cosa che ricordavi di questa donna se non la vedevi per un po' di tempo era unicamente il fatto che fosse strabica perché questo saltava gli occhi aveva poi dei capelli non molto abbondanti biondi ma di un colore fosco privo di luce e la figura intera non disgraziata pura un po' grossa per quell'età nei pochi istanti in cui restai solo pensai se le altre tre somigliano a questa dopodiché lui osserva anche un'altra cosa osserva qual è il tipo di rapporto che c'è tra la madre di queste quattro ragazze e il padre e quindi sta ricostruendo nella sua memoria l'idilliaco quadretto di una famiglia modello guardate è una famiglia modello in cui non mi sembra ci siano grandissime qualità sono piccolissime cose che però corrispondono molto al quadro della perfetta famiglia borghese in cui addirittura anche il tradimento come era abbastanza come era cosa abbastanza comune all'epoca viene accettato la moglie e il marito sono complementari e c'è un rapporto che è veramente triste se ci pensiamo ma che appare agli occhi di Zeno come il massimo dell'ordine della tranquillità ricordatevi c'è una grande richiesta nella elaborazione della coscienza di considerare di ordine perché l'ordine è considerato come sanità e il disordine come malattia l'inetto è il più disordinato degli uomini posso dire che all'epoca di quella mia prima visita mia suocera era tuttavia una bella donna era elegante anche nel suo modo di vestire di un lusso poco appariscente tutto in lei era mite e intonato vedete l'armonia l'ordine almeno formale esteriore avevo così nei miei stessi suoceri un esempio di integrazione fra marito e moglie quale io lo sognavo erano stati felicissimi insieme lui sempre vociando e lei sorridendo di un sorriso che nello stesso tempo voleva dire consenso e compatimento come quando si guarda un uomo e si capisce che non ha proprio sempre ragione ma si sorride e un poco lo si compatisce essa amava il suo grosso uomo ed egli deve averla conquistata e conservata a furia di buoni affari non c'è amore qui o meglio c'è un amore che però è legato al fatto che quell'uomo ha garantito una sicurezza economica non l'interesse ma una vera ammirazione la legava a lui un'ammirazione cui io partecipavo e che perciò facilmente intendevo e qui lui sovrappone il suo giudizio non è tanto il fatto che quest'uomo sia ricco che desta l'ammirazione di questa donna e di Zeno nei confronti di quest'uomo ma che sia capace di essere ricco è una sottiglianza notevole è la sua capacità diremmo noi il carattere la personalità non fu una sorpresa per me però quando appresi che gliela tradiva che ella lo sapeva e che non gliene serbavano ancora a questo punto lui dopo aver incontrato tutte le quattro donne e aver fatto queste riflessioni che ci hanno introdotte che sono fondamentali per capire quello che succede dopo tutto quello che gli ho scritto prima apparentemente poteva non entrarci perché avrebbe dovuto raccontarci come ha scelto moglie partendo dal racconto del signor Malfenti del suo matrimonio perché in realtà tutto è collegato tutto agisce dentro di lui a un certo punto lui vede Ada dopo aver visto Ada e Alberta e riconosciute che sono due belle ragazze due belle donne dice è difficile di scoprire le origini miti di un sentimento divenuto poi tanto violento ma io sono certo che da me mancò il cosiddetto coup de foudre il colpo di fulmine per Ada quel colpo di fulmine però fu sostituito dalla convinzione che ebbi immediatamente non c'è da riflettere che quella donna fosse quella di cui abbisognavo e che doveva addurmi alla salute morale e fisica per la santa monogamia è noto che noi uomini non cerchiamo nella moglie le qualità che adoriamo e disprezziamo nell'amante cosa cerchiamo allora nell'epoca di Svevo beh l'ha detto prima lui cercava una donna che lo portasse alla salute morale e fisica poi aveva detto però in preambolo è inutile pensare che le persone cambino alla fine tu ti sposi e scopri se sei tranquillo che comunque a fianco hai un estraneo che al massimo ti sopporta però una cosa interessante perché ce lo dice Nera è consapevole sembra dunque che io non abbia visto la grazia subito e subito tutta la bellezza di Ada ma mi sia invece incantato ad ammirare altre qualità che io le attribuì di serietà e di energia insomma un po' mitigate le qualità che io amavo nel padre suo quella prima volta io guardai Ada con un solo desiderio quello di innamorarmene perché bisognava passare di là per sposarla non ho visto Ada e ho avuto il colpo di fulmine non ho detto quanto è bella e quindi la amo la voglio è mia per passione no io stavo cercando una moglie che mi portasse alla sanità ero stato contemporaneamente attratto in questa strada dall'incontro col signor Malfenti quando in una delle sue figlie ho visto la stessa cosa che aveva il padre la serietà e la determinatezza ho detto io mi devo innamorare di questa donna e chiaramente nel farlo tutto viene anche trasformato si comincia a non vedere la realtà ma a vedere l'immagine che si vuole creare di questa donna tant'è vero che Ada in realtà non solo non ama Zeno Cosini e non lo amerà mai perché gli appare totalmente diverso da lei ed è una donna pratica come potrebbe ma lo prende quasi la prende sicuramente per un deficiente e per un pazzo e lui nel primo incontro non fa assolutamente nulla per far venire un'altra idea essendo come dire molto determinato ad apparire a fare colpo fa come quelle persone un po' impacciate che strafanno e quindi è sopra le righe vuole essere brillante fa delle battute argute che però lasciano allucinati vuole essere provocatorio e divertente e anche uno un po' polemico e invece appare come un pazzo cosa che noterà immediatamente la famiglia e che per bocca della più piccola di otto anni che gli dirà in faccia ma tu sei pazzo avevano ragione le mie sorelle tu hai bisogno della camicia di forza lui ricorderà dopo come un elemento incredibile eppure in tutto questo noi avvertiamo che pian piano una delle sorelle Augusta ha un interesse per Zeno anche lei in qualche modo forse è malata anche lei ha riversato su Zeno con una consapevolezza che non riusciremo mai a capire se è piena o se è istintiva l'idea che quell'uomo possa cacciare da lei il meglio e qual è ciò che è ad offrire questa Augusta lei cerca un uomo a cui fare da infermiera cerca un uomo da fare come fa quella madre tenere a bada sopportare nelle sue insicurezze consolare accudire e anche un pochettino incoraggiare nei suoi fallimenti come un bambino e questo sarà chiaro soprattutto nella parte finale e nel capitolo successivo quando rifletterà sulla fortuna che ha avuto nel scegliere involontariamente la donna che non aveva scelto affidando invece al caso infatti dice Ada invece era tanto seria che girava intorno da girare intorno ai bei occhi alla ricerca di un uomo che essa avrebbe ammesso al suo nido ma era incapace di amare la persona che la faceva ridere e lui invece sta facendo di tutto per generare il riso un riso che molto spesso somiglia a quello dell'umorismo pirandelliano perché lui non è soltanto una persona divertente appare anche come una persona contraddittoria e ridicola a un certo punto si comincia a parlare del più o del meno si comincia a parlare dell'Inghilterra e delle donne Alberta dice che stava facendo il penultimo anno di ginnasio e che aveva qualche difficoltà con il latino e lui subito esorgisce ah sì sì il latino non è una lingua da donne sono convinto addirittura che gli antichi romani durante l'antica Roma le donne non parlassero latino perché era troppo difficile ma già parlassero italiano una battuta capirete non brillante eccetera dopodiché dice di averlo studiato lui scomincia a pavoneggiare fa una battuta citando un testo latino e Augusta immediatamente dice ma forse la citazione è sbagliata non è esattamente così anche lui fa la prima figura insomma diciamo un po' meschina di questa serata nel frattempo si dice anche Ada comincia a dire beh io invece il latino lo conosco bene pur essendo donna tant'è vero che quando sono stata per molti mesi in Inghilterra con mio padre per accompagnarlo cosa che deve rafforzare molto l'ammirazione che Zeno prova per questa donna lei ha accompagnato il padre in un viaggio di affari quindi una donna anche lei determinata quando la difficoltà dell'inglese non ci permetteva di comunicare con le altre donne inglesi io parlavo in latino e ci capivamo perfettamente e a questo punto Zeno impazzito totalmente comincia a dire sì sì sono stato anche io in Inghilterra per qualche mese per perfezionare i miei affari e ricordatevi che Svevo era stato in Inghilterra e anche lui aveva voluto studiare l'inglese a Trieste con la guida di Joyce diceva avevo trascorso alcuni mesi lì non ci avevo però non ne porto un bel ricordo anzi devo dire perché perché non ho conosciuto nessuna donna di buona società in realtà Zeno sta portando sempre il discorso sul fatto che lui vuol far capire che è un uomo da sposare che è un uomo finalmente determinato a mettere la testa a posto e quindi si sta presentando come un uomo che cerca moglie perché lo possano scegliere e ha puntato Ada la quale però lui non ha capito niente non è assolutamente interessata a un personaggio del genere a Londra poi ho frequentato soltanto alcune famiglie francesi e ho cominciato a pensare che in realtà in Inghilterra gente per bene gente importante non esistesse se non veniva dall'estero dal continente l'inglese che conoscevo era veramente molto limitato e cominciai a descrivere con tinte fosche un po' tragiche quanto questa Inghilterra mi avesse lasciato un sentimento abbastanza spento grigio che evidentemente fra le righe noi capiamo anche è legato al conflitto paterno ma questa è una cosa che lascio sullo sfondo e poi racconta una cosa che è una cosa che lascia le quattro donne più la bambina che sta lì ascoltare in un angolo maggiormente basite cioè io devo dire che l'ultimo atto che ho avuto con Inghilterra è stata un'avventura sgradevolissima ero andato da un libraio per cercare un vocabolario e su quel negozio sul banco c'era un bellissimo gatto angora ma sai di quei gatti che ti invogliano proprio per il loro pelo accarezzarli eppure non appena io ho fatto per accarezzarlo quel gatto che era mite con tutti gli altri quello che mi diceva il libraio mi aveva graffiato assalito da quel momento io ho deciso che in Inghilterra non ci potevo più stare dovevo andare e anche gli fa notare Ada che era una persona concreta ma mi faccio capire è stata il libraio a offenderla o è stato il gatto ah no no è stato il gatto il libraio non mi ha fatto niente e il gatto ha rappresentato per lei l'intero popolo inglese voi capite che di fronte a un'affermazione del genere tu pensi di avere a che fare con un deficiente o con un pazzo totale lui che aveva fatto quel racconto perché lo trovava un racconto di quelli divertenti da raccontare comincia a rendersi conto ma non ne può più uscire di essersi infilato in una figura orribile una di quelle figuracce che si possono fare e allora comincia però a rincarare come fa chi vuole uscire da un impasse e magari peggiora dice no sono sicuro che era colpa del gatto perché era inglese perché nessun gatto italiano sarebbe capace di una similiazione lo stesso libraio fu stupito del fatto che il gatto si comportava male solo con me forse era un gatto razzista perché ce l'aveva con gli italiani comunque fu una cosa talmente disgustosa che dovetti fuggire a questo punto la piccola Anna lo guarda e fa è vero che è pazzo pazzo del tutto la signora Malfenti la minacciò vuoi stare zitta non ti vergogni di ingerirti nei discorsi dei grandi la minaccia fece peggio Anna gridò è pazzo parla coi gatti bisognerebbe procurarsi subito delle corde per legarlo Agusta russa dal dispiacere si alzò e la portò via ammonendola e domandandomi allo stesso tempo scusa ma ancora sulla porta la piccola vipera poté fissarmi negli occhi farmi una brutta smorfia e gridarmi vedrai che ti legheranno a questo punto bisogna stemperare è sempre Agusta che cerca di intervenire lui vorrebbe andarsene loro invece un po' per educazione un poco perché non si può lasciare un ospite in questa maniera dicono no no rimanga un altro poco e volevano che lui si dimenticasse ufficialmente quel dolore e allora si continua a parlare e di che si finisce a parlare della morte del padre e qui abbiamo un'ada che lui crede che possa comprenderlo che lo guarda insomma anche lei un poco basitamente quella che è più interessata ma lui non se ne accorge assolutamente è Agusta quello che succede dopo è che lui cerca di conquistare Ada presentandosi sempre più frequentemente a casa Malfenti prima ci va una volta a settimana poi comincia a andarci due volte a settimana finché ci va tutti i pomeriggi con una scusa con l'altra e ci va portando con sé a volte un violino lui suona il violino malissimo lo suona talmente male che quando ha di fronte una partitura alcuni pezzi non riesce a suonarli però dice sono un po' fuori allenamento in molti anni che non lo suonavo d'altro canto chi suona il piano in quel momento è Agusta perché Ada non suona alcuno strumento e quindi Agusta che come suonatrice di piano è un poco meglio di Zeno ma non è una grande suonatrice suona e ci sono questi pomeriggi in cui lui col violino e lei col pianoforte con pezzi che saltano perché sulla partitura lui non è in grado di fare tutti cominciano a suonare insieme Ada non partecipa a queste cose alcune volte non c'è neanche ma lui va sempre là per trovarle e non si rende conto che in realtà nel fare così sta dando proprio l'impressione di corteggiare Agusta perché è con lei che suona è con lei che si presenta qualche volta non porta il violino dicendo di averlo dimenticato di non averlo potuto prendere non è portato a tornare a casa però sta sempre lì e di fatto la frequentazione è con Agusta fino a che a un certo punto nella storia interverranno due cose la signora Malfenti che chiederà a Zeno di andarci cauto con Agusta e lui dice no io veramente sono interessato ad Ada sì ma abbiamo visto come si comporta con Agusta per cui mi faccio un favore visto che è ancora indeciso su Agusta prenda una decisione le devo chiedere di venire un po' meno frequentemente a casa non di non venire no non faccia così venga lo stesso però sa Agusta è molto sensibile lei me la sta illudendo quindi venga un po' di me nel frattempo si chiarisca ma da per scontato che lui deve corteggiare Agusta non deve corteggiare Ada Ada non ci pensa proprio e poi a un certo punto nella casa delle signore Malfenti e lo vedremo dopo arriva un altro personaggio Guido Guido è bello sicuro di successo sa parlare bene fa sempre la battuta giusta sa disegnare sa suonare il violino molto meglio di tutti quanti quelli che sono lì ed è il rivale immediato che si arriva subito si scatena un rapporto in cui formalmente fra i due c'è amicizia potremmo dire benevola un gruppo di amici ma in realtà cova una rivalità profonda perché lui è l'avversario e ovviamente Ada è attirata Guido il modo in cui Guido e Zeno si confronteranno in una famosa seduta spiritica in un episodio che porterà una zoppia psicosomatica di Zeno e infine il modo rocambolesco e veramente romanzesco ma estremamente ridicolo somiglia a una comica con cui Zeno alla fine sposerà Augusta dopo essersi dichiarato alle altre sorelle nella stessa sera nel giro di mezz'ora è qualcosa che affronteremo invece la prossima volta perché merita di essere letto con le parole del romanzo allora qui noi come vedete abbiamo messo in scena un personaggio che mette a nudo che cosa che la sua contraddittoria coscienza è in qualche maniera qualcosa che agisce continuamente contro di lui che lui sta imparando non a gestire ma ad accettare ma che lo porta anche a fare delle cose che sono esattamente l'opposto di quello che nelle sue intenzioni dovrebbero essere in realtà Zeno è un personaggio non soltanto irrisolto ma è un personaggio che è incapace di adattarsi alle regole e alle convenzioni ma le desidera è un personaggio a cui è stato detto che l'adattarsi a quelle regole e quelle convenzioni lo saneranno desidera la salvezza la sanità ma sotto sotto ha una forza profonda e attiva che agisce anche in una maniera a volte inconsapevole sottile oscura e che lo porta quasi misteriosamente ad apparire e a essere il contrario di quello che egli vuole essere e quindi c'è una incapacità totale sono atti mancati quelli un'incapacità totale di agire secondo coerenza secondo la propria volontà che è esattamente quello che invece egli rimprovera al signor Malfenti cioè che ammira il signor Malfenti ebbene alla fine di questo lungo racconto che sarà tutta la coscienza di Zeno apparirà chiaro però una cosa che proprio nello scrivere questo racconto a Zeno appare una verità che in realtà anche coloro che sono come il signor Malfenti uomini risoluti ma lui l'ha definito anche ignorante incapace di pensieri originali molto ridotto negli schemi e sostanzialmente cinico egoista avaro potremmo anche dire uno che mette lo stesso nome e le figlie per non dover spendere per cambiare le iniziali si è praticità uno che dice bisogna fregare gli altri prima che gli altri freghino te farsi apparire per quello essere furbi negli affari sfruttare le situazioni si è un vincente in quel contesto sociale ma siamo davvero sicuri che non sia anche questa la malattia reale dell'umanità perché questo modo di pensare che è il modo vincente non è forse anch'esso un modo malato che però tutti scambiano scambiando il successo sociale per la sanità per una capacità e una salvezza perché questo è il problema di fondo forse l'uomo malato e lo scopriremo nell'ultimo capitolo soltanto l'uomo che è consapevole che la società nel suo complesso è malata e quindi non può uscire dallo stato di malattia lui perché è animato dagli stessi impulsi egoistici qui c'è molto Schopenhauer e molto anche la teoria dell'inconscio bestiale di Freud però essendone comunque consapevole se non è guarito almeno sa di essere malato gli altri sono malati e non sanno di esserlo e i loro atti comunque conducono a una società malata anche se si illuda di non esserla ritorno a qui se volete e io vi invito a cercare delle somiglianze un poco del pensiero di Leopardi del pessimismo cosmico di Leopardi bene sono le 13 e 20 mi ero riproposto di fare una lezione di 45 minuti e lasciarvi libero dopo le 13 e 20 credo di esserci riuscito quindi tre minuti per le eventuali domande e altrimenti come ieri poi risponderò a Tosti che mi ha scritto anche ieri ma lo farò per iscritto a questo punto pensavo di farlo oggi altrimenti me le scrivete la pagina non c'è perché sul vostro libro la storia del matrimonio non mi sembra sia riportato io vi consiglio se l'avete a casa di reggere tutto il capitolo quinto che è molto interessante altrimenti vi ho messo nei collegamenti delle classi di Classroom in Google ma ve lo metterò anche qui come link sotto il video il collegamento ai due sceneggiati televisivi una riduzione teatrale un adattamento televisivo fatti nel 66 e nell 88 dalla Rai che sia pure in forma sintetica e senza queste belle parole e belle pagine fanno vedere almeno la storia e uno è recitato da Johnny Dorelli e ve lo metterò altrimenti vi consiglio proprio se avete il libro se ve lo potete procurare in maniera digitale di leggere il quinto capitolo che secondo me è un capitolo bellissimo